Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torno con un tutorial, un video che mi è stato richiesto tanto in chat e che comunque è una riedizione di un video che è già uscito qui sul canale l'anno scorso e si tratta del tutorial sullo speed boost alla Riberoski, se vogliamo chiamarlo così. Andiamo brevemente a vedere di che cosa si tratta in game. Cerco di farvelo vedere, una grossa premessa è che mi trovo su PlayStation in maniera tale che ho potuto inserire il controller a schermo per farvi vedere esattamente il timing con il quale vado a premere i tasti per poter eseguire lo speed boost. Quindi non ho la mia squadra abituale, ho dei giocatori che lo riescono a fare in maniera più o meno cristiana in prestito, quindi ho settato la squad battles a principiante in maniera tale di provarlo, insomma, senza essere pressato e farvelo vedere bene ma andrò ad inserire poi una clip di gioco presa da una delle mie stream dunque parliamo di gameplay di Divisione 1 a più di 2200 punti per farvi vedere che funziona ovviamente anche in game, online, eccetera, eccetera, eccetera. Di conseguenza, con un rapidissimo cambio di scena, eccoci qui e ci ritroviamo in game. Vedete il pad a schermo, eccolo qui che era disconnesso ovviamente ma è il bello della diretta. Ho già setappato qui la situazione con il buon Obameyang. Come si performa questo speed boost ad Ari Berowski? Semplicissimo, raga. Premete L1, vedete? Premete L1 per puntare l'avversario. Appena gli siete più o meno vicini, togliete l'L1, subito andate ad inserire il tasto della corsa, guardate, così. E otterrete uno scatto che lascia l'avversario sul posto. Secondo me anche meglio, guardate qui come lo sto facendo a schermo, vedete l'illuminarsi dei tasti che clicco, che secondo me questo è molto meglio di questo speed boost che hanno introdotto quest'anno con il doppio R1, che il buon Mohamed neanche fa. Vediamo di prendere un giocatore che magari lo fa. Eccolo qui, questo. Secondo me questo è valido, ma non è valido come quello che faccio io. Questo qui vi dà la possibilità di poter fare un sacco di cose. Quando lo uso io in maniera principale, io lo utilizzo solitamente quando mi trovo sulla fascia e sto puntando all'avversario per cercare di lasciarlo sul posto e andare poi in aria a mettere palla in mezzo. Un'altra situazione dove capita spesso di utilizzarlo è questa qui, più o meno. Giocatore portatore di palla a questa altezza, punto il mio difensore, mi imbuco in aria, oppure anche qui punto per poi tirare direttamente un tiro ad incrociare. Che quest'anno, avete visto, workano parecchio. Quindi diciamo che queste sono le situazioni principali nelle quali vado a utilizzare lo speed boost. Adesso vi spiego quali sono i giocatori che performano al meglio questo tipo di speed boost. Quest'anno, secondo me, si tratta di giocatori alti e veloci. Vi parlo ad esempio di Ronaldo. Ronaldo lo fa di Cristo. Bappé lo fa di Cristo. Manet lo fa di Cristo. Giocatori un po' più bassi, diciamo, alla Messi, alla Maximen, eccetera, ho provato, lo fanno bene, ma non hanno quella esplosività che hanno i giocatori che vi ho citato adesso. Non solo, un altro fattore molto importante è quello che questo speed boost risente tanto della stamina dei giocatori. L'anno scorso no. Quest'anno, invece, se il giocatore è stanco, performa questo speed boost in maniera differente. O lo fa praticamente senza acquisire alcun vantaggio in termini di velocità, oppure praticamente è come se non lo facesse. Quindi, a maggior ragione, importantissimo quest'anno, secondo me, avere dei super sub, soprattutto nel reparto offensivo, che vi permettono di poter spaccare in due le partite intorno al settantesimo, quando, insomma, le difese avversarie, i centrocampisti avversari sono un po' affaticati e, di conseguenza, loro possono sfruttare la loro freschezza. Quindi, fatto vedere, diciamo, in presa diretta con l'ausilio del pad virtuale quelli che sono i tasti per poterlo performare, io adesso vi lascio a quella che è una clip che ho registrato stamattina giocando in maniera tale che potete vedere in game come si comporta in una partita online con un avversario cristiano e non controllare la speed battles a difficoltà principianti. Raga, eccomi tornato. Come avete visto, quindi, questa è una degli scenari nei quali lo vado a utilizzare, ossia quando capisco che puntando il difensore riesco a entrare in aria e avere lo spazio libero per un tiro a incrociare e, insomma, a me sembra che funziona alla perfezione. Lo sto utilizzando tanto, vi ripeto, e ve lo consiglio. Ve lo consiglio più di quello che si fa con l'R2 quest'anno che hanno introdotto. Che dirvi? Per questo video, raga, è tutto. Fatemi sapere se avete trovato questo tutorial utile, tutte cose che, insomma, in vista della VL sono sicuramente buone da conoscere. Fatemi sapere se già lo conoscevate, fatemi sapere quali altri tutorial volete vedere sul canale. Io vi ricordo di lasciare un mi piace e commentare cose da youtuber che so che sono importanti. e nulla, io vi do appuntamento ogni giorno in live, raga, e ci vediamo presto qui su YouTube con un nuovo video. Un salutone, ciao ciao!